Oggi parliamo della Model Y Refresh che è apparsa sul configuratore cinese. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Oggi grande novità sul configuratore cinese perché stamattina è apparsa una Model Y leggermente diversa da quella che possiamo trovare sul configuratore europeo e sul configuratore americano così come su qualsiasi altro configuratore australiano di Hong Kong, anche quelli asiatici sono rimasti come quello europeo ma è cambiato solo quello cinese. Allora andiamo a vedere che cosa è cambiato in questa Model Y e effettivamente facciamo delle valutazioni sul perché e cosa dovremmo aspettarci in futuro. Intanto che cos'è cambiato? Qualche modifica estetica per quanto riguarda l'interno dell'auto. Intanto la plancia, il dashboard è cambiato, non c'è più il legno ma al posto del legno c'è una una texture di sembra tessuto, tipo come quello degli altoparlanti, una roba del genere, questo grigio chiaro. A me piace molto, dico la verità. In più è stato aggiunto il LED come luce d'ambiente che riprende un po' quello che abbiamo visto anche sulla Model 3 Refresh Highland. Comunque è un qualcosa che dovremmo aspettarci su tutti i modelli futuri Tesla. Poi che cos'altro c'è? Cambiano i copricerchi dei cerchi da 19, quelli di serie Gemini, che anziché essere grigi diventano neri. Ora, i copricerchi grigi che potete trovare sul nostro configuratore non è che siano poi bellissimi. A qualcuno piacciono, però effettivamente ci voleva poco a farli neri e cambia completamente la macchina, cioè cambia completamente come si presenta la macchina. Ma invece c'è un'altra modifica che è estremamente interessante e questo secondo me è il punto importante. Normalmente la Model Y a trazione posteriore, anche in Europa, ha uno 0 a 100 dichiarato in 6 secondi e 9. Da oggi, con quelle cinesi nuove, viene dichiarato 5 e 9. Un secondo in meno nello 0 a 100 è un'eternità. È veramente tanto. Non si parla di 1 o 2 decimi, un secondo in meno nello 0 a 100. Poi ci sono circa 9 km in più nel ciclo CLTC, che è un po' meno restrittivo del VLTP europeo, non fa troppo testo, però comunque c'è un piccolo aumento di autonomia dichiarata. Allora, quali sono le considerazioni che possiamo fare? La prima considerazione riguarda le prestazioni. Probabilmente, ora non c'è niente di ufficiale, si vocifera, che il motore, quindi parliamo trazione posteriore, quindi solo il motore posteriore, sia cambiato, quindi non sia più il 3D7, che equipaggia anche le versioni europee, ma sia o il 3D6, che è quello per esempio che equipaggia la mia Model Y Performance, che è un po' più potente, oppure, cosa che io credo, possa essere il nuovo 4D1. Il 4D1 è il motore definito Airpin, che è installato, come sempre motore posteriore, sulle nuove Long Range, cioè quelle che hanno da libretto 190 kW di potenza dichiarata. Perché secondo me può esserci questo motore? perché si dice, non ho testato ancora materialmente, però, mentre il VLTP è lo stesso in Europa, sembra che chi la stia usando ravvisi dei consumi migliori, quindi un'efficienza maggiore. Sicuramente porta dei vantaggi sulle prestazioni, più che altro nel mantenimento delle prestazioni, perché si dichiara 190 kW rispetto ai 153 precedenti, vuol dire che qualcosa è cambiato, non tanto di picco, ma proprio come mantenimento delle prestazioni. Ovviamente installato su una trazione posteriore, dove è l'unico motore, ci sta che Tesla abbia potuto sbloccare delle prestazioni migliori. Comunque, che sia il nuovo 4D1, o che sia il vecchio, tra virgolette, cioè quello che ho anch'io, 3D6, sta di fatto che Tesla è uscita con questa macchina che ha un secondo in meno nello 0 a 100. Ora, perché in Cina e non in Europa, non negli Stati Uniti? Io vi do la mia valutazione. Allora, la Cina è il mercato in assoluto più competitivo per Tesla, perché ci sono una marea di marchi che noi non conosciamo, conosciamo solo i principali, ma ci sono veramente una marea che stanno uscendo con tante proposte. E quindi Tesla cerca comunque di rimanere al passo. Arriverà questa versione anche in Europa e negli Stati Uniti? Beh, non è detto. Quando potrebbe arrivare, quindi quando potremmo avere la conferma di questa versione anche da noi? Secondo me, loro sono usciti adesso con consegne tra due e sei settimane, quindi siamo a fine settimana, inizio ottobre, ormai siamo a ottobre. Vuol dire che tutta la produzione di settembre è già partita per l'Europa praticamente, l'abbiamo visto anche con le Model 3 Refresh. Quindi chi oggi ordina una Model Y sul configuratore europeo riceverà un'auto fondamentalmente che è già stata prodotta o verrà prodotta a breve, perché comunque serve il tempo alla macchina per arrivare in Europa. Chi la ordina oggi in Cina riceverà tra due e sei settimane una macchina che verrà prodotta adesso inizio ottobre, da inizio ottobre in poi. Però non dovendo muoversi via nave è molto più diretta la produzione e consegna, quindi i tempi sono più ristretti. Quindi diciamo che le consegne di quest'auto cominceranno verso fine ottobre, più o meno. Quando dovremmo aspettare una modifica al nostro configuratore? Sempre se Tesla deciderà di esportare quest'auto anche in Europa, secondo me intorno a dicembre, perché a questo punto tutta la produzione che comincerà adesso fino ad arrivare a fine anno sarà destinata al mercato cinese in modo tale che poi circa dicembre anche il nostro configuratore verrà aggiornato e chi ordinerà la macchina a dicembre la riceverà intorno a febbraio, o comunque da febbraio in poi. Questo è quello che posso pensare rispetto a questa decisione. Perché scendere di un secondo nello 0 a 100 in una Model Y a trazione posteriore? probabilmente per rimanere comunque, per offrire comunque un prodotto che abbia delle specifiche migliori rispetto alla concorrenza cinese. Probabilmente in Europa e negli Stati Uniti non è una cosa così sentita perché non ci sono così tanti marchi, in Cina magari sì, però non vedo perché non dovrebbe arrivare anche da noi. Staremo a vedere. Comunque trovo molto interessante queste piccole modifiche che non sono una novità e Tesla ha sempre agito così, così da un giorno all'altro che arrivano nel configuratore. E ora passiamo ai saluti e ringraziamenti. Cominciamo con Loris che ha supportato il canale, grazie mille e mi ha scritto, ciao Fabri sono Loris e grazie per le risposte a due mail e alle continue domande su YouTube. Assolutamente è un piacere se posso esserti utile. Poi un altro ringraziamento a Ignazio, anche lui ha voluto supportare il canale e mi ha scritto grazie per aver chiarito i miei dubbi su come estendere la scadenza dei supercharger gratuiti. Continua così, beh ci proviamo. E poi un altro grande ringraziamento a Bruno che diciamo che ha supportato il canale con prodotti fermentati della terra. Ecco, diciamo così, provenienti dall'uva e grazie mille per quello che mi hai mandato e ti auguro davvero di riprenderti da quello che ti è successo. Quindi spero di rivederti presto in pista alla grande. E poi abbiamo una consegna di Gianluca, ormai è del 23 agosto, però è riuscito a mandarmi una foto solo ora della sua Model 3 bianca, vabbè, va bene Gianluca, complimenti davvero per la tua nuova Model 3. Bene, questo è tutto per oggi, io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!